ragazzi cari vorrei farvi un annuncio non importante non importantissimo quello che viene dopo l'importantissimo ce l'avete presente perfetto quello 23 24 novembre milano fierarò games week sarò presente sia io che mio cugino al games week ragazzi saremo insieme potremo fare un sacco di foto abbracciarci parlare fare autografi tutto quello che volete 23 24 novembre ci trovate al games week quindi andate su internet ragazzi e informatevi per i biglietti che è molto 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 importante questa fiera fatemi sapere nei commenti se verrete e niente questo era tutto quello che devo dirmi fate i bravi ciao ci vediamo ai games week